Oggi una giornata molto particolare, una giornata dedicata al mondo della cultura e ai musei. Un museo non per tutti, ma solo per veri appassionati. Passo dopo passo arriviamo all'anno della fondazione 1899 del Milan Football and Cricket Club. La squadra di Milano, Milano, Milano. Lo sole di noi siamo, noi siamo, noi siamo. La squadra di Milano, Milano, Milano. E siamo noi, che a Milano sono noi. E siamo noi. 1997, l'ultima maglia, numero 6 del mitico capitano Franco Barese. No, 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 no. E qui all'interno dell'Olimpo, dove vengono esposte le più belle vittorie del Milan, siamo con Sandro, uno storico della curva. Quali sono per te le coppe più significative e le finali? Ma sicuramente la finale di Atene e la finale di Barcellona. Per me sono le due finali più belle che ho mai vissuto. Anche perché avevo fatto vent'anni di curva, secondo me sono quelle più belle, più emozionali di tutte. E nella speranza allora di ritornare a rivivere quei momenti, rimanete con noi perché le sorprese non sono ancora finite. Milano, Milano, e siamo noi, che a Milano sono noi, e siamo noi. Comunque solo noi, siamo noi, che a Milano sono noi, e siamo noi. Ebbene sì, caro Luca, qui si narra ancora di te quando hai scartato Shevchenko e naturalmente Kakà e hai segnato da Milano e da Mondo Milan. È veramente tutto, Andrea Evans per TG Evans.